Per recuperare lo username chiocciolaruba.it, accedere all'indirizzo gestioneaccessi.aruba.it. Dal menu a tendina indicato, selezionare la voce login-aruba.it. Cliccare sul pulsante indicato. Compilare il form visualizzato con almeno uno dei tre dati richiesti, tra codice fiscale, partita IVA, e-mail. Come dato aggiuntivo, inserire nel campo apposito il nome di un dominio in proprio possesso, registrato con l'account Aruba di cui si sta effettuando il recupero. Per continuare, digitare il codice monouso che si visualizza nella figura sottostante. Cliccare su Prosegui. Si accede alla pagina Recupera la login da cui scegliere l'opzione indicata e cliccare su Prosegui. La procedura è completata. Si riceve una e-mail contenente lo username Aruba. Grazie a tutti.